Il calcio d'inizio per il Cittadello Il calcio d'inizio per il Cittadello Fallo di Pecorini, si stava coordinando e c'è l'espulsione, chiara occasione da gol Calcio di rigore, parte Palaccio, il tiro A gol, a gol, a gol, a gol, a gol, e 2-0 2-0 per l'Inter alla mezz'ora Parte Johnny, va in dribbling, palla al limite, cambiasso, carica al sinistro, filtrante Palaccio, il tiro Cosa mi sbaglia il Trensa Attenzione, passaggio sporco, Dumitru ne approfitta JJ, attenzione, attenzione di Roberto qua Invece va il tiro, Samir, vola, 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 vola La va a prendere all'incrocio la sassata di Dumitru al 41 E allora amici dell'Azzurri, finisce il primo tempo con il parziale di Inter, 2 Cittadello a 0, il gol di Johnny al 17, il raddoppio di Palaccio su rigore al 31 L'uno contro uno con Marino, Johnny alla meglio Adesso deve gestire la palla per l'inserimento del Giaguaro Attenzione, palla filtrante BOL! C'è gol, 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 gol! Che bella, che bella questa trama Parte la traiettoria, bassa, attenzione, mischia Ranocchia, è gol, 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 pocherone! Il gol anche di Ranocchia, 4-0 per i ragazzi Al minuto 18, attenzione pericolo Attenzione che prova ad andare all'azione individuale di Roberto Va al tiro, Samir Samir! Tirati dice, basta così E allora, tutti al centro del campo per subito applicare le nuove normative Lega Che prevedono il saluto finale dei giocatori sul rettangolo di gioco Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni E poi sei libero di decidere se abbonarti Per acquistare per tutte le informazioni Premi il tasto prima fila del tuo telecomando Vai su sky.it o chiama 199 11 44 00 Prova Inter Channel e poi scegli Sky, liberi di...